La corsa al vaccino contro il Covid si fa sempre più competitiva. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ben 155 vaccini sono in elaborazione. 31 di questi sono in sperimentazione sul uomo. 4 sono giunti alla fase 3, quella dei test di massa su migliaia di volontari. La nazione che per prima svilupperà un vaccino efficace e sicuro avrà un enorme vantaggio geopolitico. Ma chi è in testa in questa gara? La Cina è la più avanti nelle ricerche, con due distinte case farmaceutiche in fase 3, la compagnia privata Sinovac Biotech e la società statale Sinopharm. Gli studi tra le due case cinesi differiscono. La Sinovac sta conducendo i suoi test di fase 3 in Brasile e ha già dichiarato di avere una capacità produttiva di 100 milioni di dosi all'anno. La Sinopharm, legata all'Yuhan Institute of Biological Products, sta conducendo la sua fase 3 su un campione di 15 mila volontari negli Emirati Arabi Uniti. Infine, la Cansino ha ottenuto un'approvazione limitata per il suo vaccino, che viene già utilizzato su un milione di militari cinesi. In Europa, lo studio più promettente appartiene all'alleanza tra l'Oxford University e la britannica AstraZeneca. Anche in questo caso la fase 3 viene condotta in Brasile, con un limitato numero di volontari in Sudafrica. AstraZeneca ha il vantaggio di un'enorme capacità produttiva. A regime potrà sfornare 2 miliardi di dosi. Italia, Germania, Olanda e Francia hanno già opzionato 400 milioni di dosi, disponibili da fine anno. Infine, negli Stati Uniti la produzione di vaccini è accelerata nelle ultime settimane. Grazie alla campagna di finanziamenti straordinari e approvozioni rapide chiamate Warp Speed, Moderna, la prima azienda americana a sottoporre un vaccino ai test umani entrerà in fase 3 entro il 27 luglio. I risultati della fase 1 hanno dimostrato una risposta immunitaria di successo in ciascuno dei 45 volontari. I risultati della fase 2 non sono ancora stati resi pubblici. Altre case farmaceutiche americane in fase 3 entro l'autunno saranno Novavax, Inovio e Pfizer. Sempre negli Stati Uniti si sono aggiunte alla corsa al vaccino anche Merck e Johnson & Johnson, entrambe in fase di test preliminari. Assieme a loro i francesi di Sanofi e i russi del Gamalea Research Institute. Gli ultimi entreranno in fase 3 entro settembre. Ma quali sono i vantaggi concreti a livello geopolitico che avrà la nazione che scoprirà per prima il vaccino? Lo chiediamo a Filippo Diodovic, Market Analyst di IG. Buongiorno Filippo e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Tantissimi vantaggi dalla possibilità di stringere nuove alleanze strategiche al guadagno di reputazione per i propri laboratori di ricerca. Le istituzioni internazionali come l'OMS e l'ONU hanno ribadito più volte che il vaccino per il Covid-19 sia riconosciuto come un bene comune universale. Nella realtà ogni grande potenza ha aumentato gli investimenti in ricerca e ha attivato anche i propri servizi segreti per raccogliere informazioni sulle ricerche estere. Di recente gli inglesi hanno accusato gruppi di hacker russi legati all'intelligence di Mosca di aver rubato, o almeno tentato di portare avanti con degli attacchi cibernetici all'Università di Oxford per rubare gli studi sul vaccino. E come sta cambiando la valutazione del comparto biotech a livello di mercati? Sì, il settore biotech e quello farmaceutico sono in forte fermento. Le aziende coinvolte nella corsa per trovare il vaccino il prima possibile hanno evidenziato in borsa delle performance monster. Se guardiamo da inizio anno la Novavax ha aumentato il proprio valore di 30 volte, Inovio di 8 volte passando da 3 a 27 dollari, Moderna di quasi 4 volte, anche la stessa cinese Kamsino Biologics ha triplicato il proprio valore in borsa. Ecco bisogna però tener conto che investire in questi titoli comporta notevoli rischi, perché basta il fallimento dei test o un forte ritardo per trovare la cura del vaccino che può portare a violenti ribassi, proprio perché si è creata una bolla finanziaria attorno alle aziende del comparto. Grazie, grazie mille a Filippo Diodovic, Market Analyst di IG. Grazie a voi. Grazie a voi.